O santi martiri di Abitina, che avete sofferto per la vostra fede in Gesù Cristo, pregate per noi, siate nostri intercessori presso il trono della grazia, affinché possiamo essere forti nella fede e resistere alle tentazioni del maligno. Vi chiediamo di essere con noi nei momenti di difficoltà, di confortarci nella tristezza e di incoraggiarci nella speranza. Aiutateci a essere testimoni del vostro coraggio e della vostra devozione, affinché possiamo seguire il vostro esempio e raggiungere la vita eterna. Preghiamo insieme affinché la vostra intercessione ci aiuti a superare le prove della vita e a raggiungere la pace e la felicità eterna. Amen.